Reccoci insieme, siamo con Tonino Rana, presidente della Pro Inter, come sta andando la tua società quest'anno? E' iniziato il campionato? Come? Sì, sì, stiamo bene con i giovanissimi, un po' maluccio con gli allievi, comunque ci stiamo riprendendo. Bene con i giovanissimi, sei primo o tre primi? Domenico eravamo, poi abbiamo pareggiato, siamo secondi con i giovanissimi. Vogliamo rivedere la Pro Inter e vincere i campionati. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta, intanto questo è il numero della SSTV Sport, 366, lo dico a beneficio di chi ci ascolta per radio, 366-522-6888, inviate un messaggio per Antonio Cassano, li raccoglieremo e tramite Giulio Mola, che si è fatto promotore di questa rotevole iniziativa, li consegneremo, anzi Giulio li consegnerà personalmente nelle mani di Antonio Cassano. C'è un amico in linea, pronto? Enzo, sono Gennaro Ivaffone. Ciao Gennaro, ciao caro. Sono Tonino Rana. Ciao, ciao Gennaro. Ciò che sto sentendo è una paranoia, sentire certe cose, un tifoso che deve dire ma io in serie B, no, è giusto che se uno deve amare il Bari va in serie A, in serie B, in serie C, però il problema è che il signor Presidente, che è rispettato, ben voluto dai tifosi veramente, chiamano questo Bari, purtroppo non parla, non dice quello che dovrebbe dire, per loro significa una mancanza di rispetto. Vabbè, non ha parlato nei tempi di pace, vuoi che parli adesso, che insomma è dimissionario e comunque ha lasciato l'incarico ad altri, quindi insomma adesso veramente non avrebbe persino alcun senso un discorso, diciamo che non ha quasi mai parlato nei momenti nei quali la gente avrebbe voluto ascoltare determinate cose, oggi è persino giustificato perché praticamente è andato dietro le quinte e ha lasciato campo aperto ad altri. C'è un amico in linea, credo 080 501 9998, intanto chiedo alla regia che appena siamo pronti, vorrei vedere alle spalle Rivaldo per andare con l'intervista. Pronto? Pronto, salve Enzo. Ciao. Volevo dirti, tu giustamente dicevi il fatto di andare come noi tifosi sia quando sei in A che quando sei in B, no? ma io non condivido la tua politica, ti spiego il perché. Per una città come Bari, se tutti chiediamo la grande squadra, la cosa più giusta è che noi dobbiamo stare in Serie A e qui la cosa più giusta è che noi se dobbiamo gridare i nostri colori, dobbiamo andare in Serie A. No, io rispetto il tuo pensiero, però mi avviso la mentalità ottimale di un tifoso è quella di seguire la squadra a prescindere, anche perché per me è un tifoso a peso, è una tifoseria a più peso se è presente, se la tifoseria è assente, è a casa, segue per carità, io non dico che quello che è a casa non sia un tifoso, è un tifoso che sceglie altre vie, perché comunque del Bari, insomma noi parliamo ogni giorno, se parliamo ogni giorno del Bari in televisione vuol dire che c'è chi ci ascolta e non sono soltanto quelli che vanno allo stadio, probabilmente ci ascoltano tantissimi tifosi che allo stadio non ci mettono più piede, però come vedevo la domenica mattina per carità l'entusiasmo poi cambia, è chiaro che i risultati determinano un entusiasmo diverso, però a mio avviso chi è andato a vedere il Bari in Serie A dovrebbe dare uno sguardo anche al Bari in Serie B, poi criticando, fischiando se la squadra va male, però la squadra va vissuta a mio avviso sempre e comunque. Il problema purtroppo, la colpa è dei presidenti, che non dovevano accettare il caso Bosman, quello ha rovinato tutto il calcio perché oggi come oggi per andare a comprare un calciatore mediocre ci vogliono le carriole di soldi e questi Mattarriks non ce ne hanno. C'è un amico Ligna, pronto? Sì, ciao Enzo, saluto all'ospite. Io sinceramente da una parte non condivido la tua idea per un semplice motivo, ti faccio un esempio, se tu andassi in un ristorante e pagassi un prezzo abbastanza alto in proporzione e non mangiassi bene, tu torneresti in quel ristorante? Ma là sono un cliente, non sono un tifoso in un ristorante, cioè la differenza è che il tifoso, a mio avviso, c'è il tifoso e lo spettatore, cioè lo spettatore è quello che sceglie di vedere uno spettacolo piuttosto che un altro, quindi la Serie A piuttosto che la Serie B, il tifoso invece mangia sempre quella minestra, una volta la trova più buona, l'altra meno buona, cioè per me il tifo è una fede, è una cosa completamente diversa dall'essere cliente di un ristorante, perché tu puoi scegliere, non sei tifoso, magari ti può piacere un ristorante, ma il tifoso è fedele alla squadra, cioè per definizione, e quindi la deve seguire nella buona e nella cattiva sorte, fermo restando che uno può andare allo stadio, può alla fine della partita fischiare perché è giusto questo, guardate quella della Sampdoria, quando il bar stava in quartà se la gente correva al campo, perché aveva fede proprio per il Bari, adesso ripeto, è un modo diverso, diciamo che i tifosi del Bari sono tantissimi anche dappertutto, soffrono, soffrono da casa, soffrono, mi rendo conto che esiste questa tifoseria, non è che è sparita questa tifoseria, però vive il rapporto con il Bari in maniera sulla quale è giusto fare una riflessione. C'è un altro amico in linea, pronto? Sì, ciao Enzo, sono Nicolai, ovviamente in bocca al lupo ancora da Antonio Cassano, niente Enzo, credo che tra le tifoserie delle grandi città siamo i più delusi, su questo non vi è dubbio, allora, volevo fare la conta delle grandi città? Tutti hanno vinto scudetti e coppe, tutte le grandi città, siamo gli unici ad essere arrivati fino ad un certo punto e tornati indietro, ti ricordo dei discorsi che facciamo una volta, un passo indietro, non voglio dire cinque... Nicola, non è la delusione, a Bari il vero problema è che molti tifosi dicono, e ripeto, posso persino rispettarli, li rispetto anzi, io non vado a dare i soldi a Matarresi, io non vado allo stadio fin quando Presidente, ma diciamoci questo chiaramente, però se questo vale, a mio avviso dovrebbe valere anche in Serie A, dovrebbe valere anche quando il Bari vince il campionato con Conte, quando il Bari con Ventura e Decimi in classifica, la coerenza dice che se io non voglio prendere distanze da qualcuno, le prendo sempre e comunque, non che mi avvicino a seconda dei casi. Ripeto, questo è il mio punto di vista, lo so che è discutibile e magari creerà anche, come dire, qualcuno mi insulterà per quello che sto dicendo, però io devo dirlo con molta franchezza, io sono un giornalista, quindi devo andarci allo stadio, però assumerei questo tipo di atteggiamento, nel senso che se non mi va proprio un tipo di gestione societaria, non ci vado, però non è che vado se il Bari vince da spettacolo, c'è un amico in linea, pronto?